Dopo la partecipata protesta dei commercianti rosetani che hanno consegnato al sindaco di Girolam un cestino bianco con dentro le chiavi delle attività commerciali come gesto simbolico contro l'aumento del 30% sull'imposta sulla pubblicità, l'amministrazione comunale del comune costiero ha deciso di fare un passo indietro sulla decisione presa, anche se l'aumento è stato ugualmente inserito nella delibera approvata nell'ambito del bilancio di previsione 2019-2021, visto che non c'era più il tempo necessario per modificarla a causa della scadenza impellente per l'approvazione del bilancio, c'è stato però l'impegno del sindaco di riportarla nei prossimi giorni in giunta per sospendere questo aumento e successivamente per cancellarlo. Abbiamo deciso, nonostante si trattasse della sezione di bilancio, di dialogare naturalmente con un gruppo di cittadini così numeroso, il problema direi che è risolto perché nei prossimi giorni con l'ausilio dei miei dirigenti avvierò un percorso per sterilizzare questo aumento del 30% dell'imposta comunale sulla pubblicità, quindi non ci saranno aumenti, aumenti che avevano creato, ho detto io ieri sera anche i commercianti, un eccessivo allarme perché erano veramente un adeguamento dovuto dopo anni in cui la tariffa era rimasta invariata e avrebbe comportato aumenti per poche decine di euro, a volte addirittura anche inferiori e tuttavia abbiamo compreso che la sofferenza in questa fase del commercio piccolo, del commercio non della grande distribuzione, questa sofferenza del commercio non sopportava nemmeno un piccolo aggravio come quello derivante da questo provvedimento e quindi la mia amministrazione ha deciso di rievocare questi aumenti perché non portavano poi un grosso apporto al bilancio 2019 sicché la questione è risolta. Rimane chiaramente, l'ho detto nel mio intervento, la sofferenza di tutto il settore del piccolo commercio ma sono questioni che vanno risolte in altra sede, in particolare a livello nazionale con provvedimenti più organici e più importanti.